Vietato prendere appunti, vietato fare foto o copie, vietato registrare la lettura del testo. Queste le direttive che da ieri parlamentari e funzionari governativi dovranno rispettare per accedere alla sala lettura presso il Ministero dello Sviluppo Economico per consultare il testo del TTIP, l'accordo internazionale di libero scambio tra Stati Uniti ed Unione Europea. È andata come può andare nel momento in cui lasciano tempo soltanto un'ora per consultare migliaia di pagine che riguardano questi testi negoziali sul TTIP. È un tempo veramente risicato per capire nei dettagli che cosa comporti un trattato del genere, però è un tempo sufficiente per capire che la direzione politica della Comunità Europea e degli Stati Uniti ed America è quella del liberismo antisociale nel commercio. Sul trattato c'è una mancanza di trasparenza intollerabile, commenta Giulio Marcon di Sinistra Italiana, che è stato il primo dei parlamentari italiani a prendere visione del testo. La consultazione del TTIP in Italia denuncia invece il Movimento 5 Stelle è soggetta alla stessa normativa che regola il segreto di Stato, che fino a poco tempo fa ha interessato drammi storici come il disastro aereo di Ustica e le stragi degli anni 70 e 80. Infatti è una cosa abbastanza strana, nel senso che è diventato un po' anche il segreto di Pulcinella. Lo abbiamo visto negli anni, il segreto non è più un segreto quando si vede che il commercio diventa la regola numero uno, il commercio sfrenato diventa la regola numero uno di tutte le politiche, sia europee che americane. Quindi non si riesce neanche a capire il perché di tanta segretezza su questi testi negoziali. Oltretutto è anche un po' adesso assurdo parlare di sala lettura, per il semplice motivo che grazie a Greenpeace e al comitato NotiTip abbiamo avuto i leaks e quindi tante cose si possono tranquillamente leggere in rete. 900 pagine per un totale di 8 volumi in cui vengono toccati aspetti determinanti dalla distribuzione e vendita dei prodotti per i quali si fissa un livellamento verso il basso alla questione dell'arbitrato. Con l'arbitrato privato per la soluzione delle controversie, gli stati potranno essere citati dalle imprese qualora prendano decisioni a tutela dei consumatori o meglio dei cittadini che le imprese considerino lesive dei loro interessi. Il TTIP, spiegano poi i parlamentari pentastellati, si presenta come un documento composto da quasi mille pagine suddivise in otto faldoni, ciascuno con un doppio timbro, uno del Ministero degli Esteri e l'altro del Ministero dello Sviluppo Economico. Timbri che in entrambi i casi fanno riferimento ad un ufficio nato sempre in seno ai predetti ministeri. Ci domandiamo e magari vorremmo anche sapere la motivazione che sta dietro a questo tipo di timbro.